E' mercoledì 11 marzo, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Donato Mignogna. Diamo subito gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. E' arrivato l'esito del tampone sul medico del Veneziale di Sernia che aveva svolto servizio al Santimoteo di Termoli. Ebbene il tampone è risultato negativo. Il medico non ha contratto il coronavirus. La notizia è arrivata ieri alle 21.30 ed era molto attesa all'ospedale di Sernia che rischiava il blocco per controlli ulteriori e sanificazioni. Dunque nessun caso di coronavirus al Veneziale di Sernia. E andiamo avanti con gli aggiornamenti. In Molise sono 14 i casi positivi di coronavirus. Oltre all'anziano deceduto allo Spallanzani di Roma. Tre le persone in terapia intensiva. Quattro ricoverate nel reparto di malattie infettive. E sette quelle in quarantena. Sono invece 222 i casi in isolamento a domicilio e 243 in sorveglianza. Intanto il paziente di 64 anni di Montenero di Bisaccia ricoverato a Campobasso è rientrato a casa giudicato clinicamente guarito. Resterà però in regime di isolamento domiciliare. Non aveva invece il coronavirus il 51enne autotrasportatore residente nel capoluogo che era stato nel Bergamasco morto in ospedale dopo essere stato portato la scorsa notte. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina in un video ha voluto ribadire alcune cose per meglio comprendere le varie disposizioni che producono effetto dalla data del 10 marzo e fino al 3 aprile. Sentiamo. Anche il Molise come tutta Italia è diventata zona a controllo rafforzato. Valcono quindi le nuove regole per i ristoranti e i bar, le pizzerie, tutte le attività in sostanza di ristorazione per le quali è disposta la chiusura alle ore 18 tassativa e consentita invece soltanto l'attività di consegna a domicilio. Attenzione, non è ammesso l'asporto presso i propri locali che devono restare chiusi. Ugualmente devono restare chiusi tutti quei bar, i ristoranti e le pizzerie all'interno di centri commerciali e di grandi strutture. E veniamo appunto a queste. Per queste strutture va fatta chiarezza perché da lunedì al venerdì queste strutture restano regolarmente aperte comprese tutte le attività al loro interno. Invece il sabato e la domenica possono restare aperte solo le attività presenti in queste grandi strutture che vendono genere alimentari, le farmacie e le parafarmacie. Tutti gli altri locali al loro interno, il sabato e la domenica, devono restare chiusi. Invece tutte le attività commerciali al di fuori di queste grandi strutture, quindi per il centro cittadino o in periferia, possono restare aperte. Chiaramente per tutti va rispettato sempre il criterio della distanza di un metro tra gli avventori ed è un obbligo posto a carico dei gestori. Altra cosa importante che va detta. Andiamo alle palestre, i centri sportivi, le piscine. Ormai sono tutti chiusi e non possono appunto svolgere nessun tipo di attività, neanche all'aperto non è previsto lo svolgimento di attività all'aperto che preveda assembramenti. Va detta una cosa sulla mobilità, perché adesso valgono le nuove regole sulla mobilità. È consentita solo per ragioni di lavoro, per ragioni di carattere sanitario o per necessità che devono essere oggetto di un'autocertificazione da rilasciare nel caso in cui si venisse appunto fermati dalle forze di polizia che controllano il territorio. Io devo anche spendere a nome di tutta la città di Campobasso un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari, a tutte le persone che attualmente sono coinvolte in questa emergenza, ovviamente comprese tutte le forze di polizia e in particolare alla polizia locale che si sta adoperando per rispettare le nuove prescrizioni imposte dal decreto e dalla costura. Ricordiamolo, si tratta di misure valide fino al 3 aprile e lo stesso valga per le scuole. Io mi auguro che ci sia adesso con questa stretta una maggiore responsabilità. Cerchiamo di essere tutti uniti e consapevoli. In questo momento è l'esigenza più grande. Ci aggioriamo presto. Pubblicata dall'amministrazione comunale di Campobasso la delibera di giunta con cui sono state definite le linee guida sullo svolgimento delle sedute dell'esecutivo con modalità telematica e con possibilità di partecipare a distanza alle sedute della stessa in audioconferenza, videoconferenza e o teleconferenza. Bene, con questo è tutto per l'informazione. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Bene, in apertura di rassegna stampa diamo subito uno sguardo alla home page del giornale del Molise. Isernia, sospiro di sollievo al veneziale, il medico non ha contratto il coronavirus. E' questo il titolo principale che fa il giornale del Molise questa mattina che poi nelle notizie in evidenza chiaramente approfondisce tutte le questioni in corso. Coronavirus negativi anche altri 40 tamponi effettuati al Santimotio di Termoli. la mappa del contagio aggiornata proposta sul giornale del Molise. Il 51enne morto al Cardarelli stanotte non aveva il coronavirus. Andiamo avanti, vediamo le altre notizie in evidenza sul giornale del Molise. Vediamo, ecco, sull'emergenza coronavirus interviene la consigliera regionale Filomena Calenda che dice subito aiuti a famiglie e imprese da Termoli, dalla Fiat, SOA e FLM Uniti, provinciale di Campobasso, proclamano lo sciopero di 8 ore. Uffici dell'Inps temporaneamente chiusi per le operazioni di sanificazione. Lasciamo il giornale del Molise per vedere questa mattina la home page di Futuro Molise. Paziente deceduto al Cardarelli di Campobasso, non è coronavirus questa l'apertura da Isernia. Continuano i controlli in città e provincia, identificate 362 persone sempre da Isernia. File davanti ai negozi da Pollonio, il sindaco della città Pentra, dice gli assembramenti sono vietati, rispettate le regole. Vediamo adesso la prima pagina di primo piano Molise. Strade vuote e gente a casa, il Molise risponde all'appello del governo, questo è il titolo principale. Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro, deserte dopo le 18. Toma dice, orgoglioso del mio popolo, l'ASREM sospende tutta l'attività ordinaria. A ore la sanificazione dell'ospedale di Termoli, il marito della paziente 1 lascia il Cardarelli, sta meglio. Zona protetta, ecco cosa si può fare, scrive. Primo piano, tra i casi sospetti, un rianimatore del Veneziale. Ieri sera però il sospiro di sollievo non ha contratto il coronavirus. Vediamo sempre sulla prima pagina di primo piano altre notizie che riguardano questa vicenda. Da Capracotta, bar, ristoranti e bed and breakfast, tutto chiuso, fino al 24 marzo. Dal Cardarelli, 51enne rientrato da Bergamo, muore dopo il ricovero, ma il test è negativo. Si parla poi di presidi sanitari e di dotazioni, arrivati 900 tamponi e 26.000 mascherine, chiesti 30 ventilatori polmonari e 500 barelle protette. Dai penitenziari, evate da Foggia, arrestato a Larino, materassi a fuoco a Campobasso. Così abbiamo senato la protesta, dice il procuratore Fucci, che racconta della trattativa. Andiamo in taglio alto. L'assalto ai negozi, ai serni a lunghe code, davanti ai supermarket e agli store di prodotti per l'igiene. Niente panico a Campobasso, shopping regolare. Da Termoli la città reagisce con ordine al giro di vite del Premier e l'appello delle associazioni. Non usciamo. Poi, primo piano, pone un interrogativo. E chi pensa a chi un posto dove stare non ce l'ha? Vediamo poi l'iniziativa del sindaco di Montaquila, Ricci, che scrive a Conte e Toma e dice servono misure più severe. Una notizia che arriva da Isernia. Alimenti conservati male, lavoratore in nero, il NAS, stanga un esercente. Andiamo a dare uno sguardo alle notizie sportive. Campobasso, i giocatori rosso-blu lanciano l'appello a restare a casa. Palla canestro, il messaggio di Capobianco, consapevolezza e responsabilità. Palla a volo, per Cesare salta la designazione in Polonia. Passiamo adesso alle prime pagine nazionali, che chiaramente quasi tutte insistono questa mattina sulla vicenda coronavirus. Andiamo subito a guardare la prima pagina del Corriere della Sera. La Lombardia, più chiusure, questo l'appello che viene dal governatore Fontana. La regione vuole fermare i negozi uffici. Conte si dice disponibile e chiede i dettagli. Oggi misure per famiglie e imprese. 10.000 positivi, più di 1.000 i guariti, 631 i morti. Questo il bilancio. Tensione tra governo e opposizione. Anche per i nuovi divieti si valuta l'estensione all'intero paese. E dal Corriere passiamo adesso a vedere la prima pagina di Repubblica. SOS Lombardia non basta ancora. Questo il titolo di apertura. Le misure. Il governatore Fontana e i sindaci chiedono stop a uffici, negozi, bus e metro in tutta la regione. Il governo però su questo è diviso, scrive Repubblica. Guardiamo i numeri. I contagiati superano quota 10.000. Ieri 168 decessi a Milano decisivi i prossimi 10 giorni per la tenuta della sanità. L'Italia isolata, Austria e Slovenia chiudono le frontiere. Spagna blocca i voli. Si fermano Air France, Ryanair e EasyJet. Poi alcune notizie che riguardano la parte economica. Mutui, congedi e aiuti alle imprese. Piano da 10 miliardi. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Dando uno sguardo alla prima pagina e al titolo principale del Fatto Quotidiano. Serrata in Lombardia, ma Confindustria dice no. Questo è il titolo che fa il Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Fontana e Lega la chiedono. Conte decide oggi. Passiamo a vedere adesso Libero. Gente in stato confusionale. Questo è il titolo che fa il Quotidiano fondato da Vittorio Feltri. Ordini e controordini creano solo caos. Gli italiani non comprendono le direttive del governo. Ressa i supermercati. Ognuno fa da sé. Si gira indisturbati. Scarsi controlli delle forze dell'ordine. E così si favorisce il maledetto virus. Scrive Libero. 10.000 contagiati. L'urlo della Lombardia. Bloccare i servizi non vitali. E andiamo avanti con la rassegna stampa. E vediamo la prima pagina del messaggero. Virus tasse e mutui. Sospesi. Questo è il titolo principale del Quotidiano romano. La Lombardia chiede il blocco totale per 15 giorni. Conte apre ma è braccio di ferro. Oggi le misure economiche. La cassa integrazione è stesa a tutti. Oltre 10.000 i contagiati. Balzo dei decessi. Poi c'è un approfondimento sul messaggero. Relativo alla capitale. Roma. La grande bellezza resta sola. E dal messaggero andiamo alla stampa di Torino. Lombardia allo stremo. Blocco totale. Questo è il titolo di apertura. Lettera di Fontana e dei sindaci. Non reggiamo. Funziona solo la zona rossa. A Codogno. Primo giorno senza nuovi malati. Il governo pronto ad aumentare il deficit al 2,9% del PIL. Stanziamenti fino a 15 miliardi. Tasse sospese e cassa in deroga. I casi superano quota 10.000. In un giorno 280 guariti. 168 decessi. L'Europa ci isola. Scrive la stampa. Stop a treni aerei. L'Austria chiude il Brennero. Con il sole 24 ore. Vediamo invece l'informazione economica. che chiaramente è orientata in questi giorni anch'essa verso l'emergenza coronavirus. Virus estesi a tutti i rimborsi. Baby sitter. Congedi retribuiti per i dipendenti. Questo scrive il quotidiano di Confindustria. Pronto un decreto verso permessi pagati al 30% per 12-15 giorni. e per figli fino a 12 anni. La sospensione delle rate di mutui e prestiti vale 2 miliardi di euro. A centropagina sul sole 24 ore. Poi l'immagine di Xi Jinping. Il leader cinese che torna a Wuhan e dice la vittoria è vicina. Il presidente cinese dice Focolaio contenuto nell'Ubei. Proseguiamo la lettura dei giornali nazionali con l'Avvenire che fa un titolo con un punto interrogativo. Questa mattina più ristretti di così. La Lombardia chiede la chiusura totale. Altre regioni a favore. Il Viminale è perplesso. Conte decide oggi. Misure di sostegno fino a 15 miliardi. L'Unione Europea apre. Le borse vanno ancora giù. Il nostro paese isolato scrive l'Avvenire. Meno contagi. Crescono i guariti ma anche le vittime di coronavirus. Nuove restrizioni pure in Vaticano. Corsa per il vaccino. Poi a centropagina il gesto di Papa Francesco. Il Papa affida alla Vergine l'Italia e il mondo. Francesco invia un videomessaggio alla celebrazione della Diocesi di Roma in programma questa sera. Lasciamo l'Avvenire e andiamo al mattino di Napoli. Virus aiuti per mutui e tasse. Questa l'apertura è il decreto per l'emergenza economica. Congedo straordinario di 12 giorni al 30% di stipendio e voucher babysitter. La Lombardia e il Veneto chiedono di lasciare aperti solo farmacie e alimentari per 15 giorni. E Conte non lo esclude. Poi un reportage dalla città di Napoli. Brava Napoli. Si fermano anche i pastori. La città reagisce compatta ai rivieti. Botteghe chiuse a San Gregorio Armeno. E andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. E' la volta del manifesto. Penisolati. Questo è il titolo che fa il quotidiano comunista. Frontiere chiuse per l'Italia. Controlli sanitari al confine con l'Austria, Slovenia e Serbia la seguono. Mentre altri paesi interrompono i collegamenti aerei e marittimi. I leader di Bruxelles promettono interventi per fermare il contagio del coronavirus. Ma intanto l'Europa ci isola dal resto del continente. Questo era il manifesto. Vediamo invece il titolo che fa il secolo d'Italia. Salvateci da Conte. Questo scrive il quotidiano della destra italiana. Il premier non sa che decidere sul coronavirus. Il centrodestra è unito e dice chiudere tutto. Andiamo avanti e passiamo al tempo. L'altro quotidiano romano con il virus. Zero sbarchi. Effetti collaterali. Questo è il titolo di questa mattina. Mai successo prima nella storia per 11 giorni. Di seguito nessun immigrato è arrivato qui. E' per il calo delle partenze. Si chiede il tempo. No. Nello stesso periodo in centinaia sono entrati in Grecia e Spagna. Significa che i trafficanti temono di affrontare complicazioni. Servono altre prove del business. Si chiede polemicamente il tempo. Poi questa notizia che riporta solo il quotidiano romano. Le affermazioni di Angela Merkel. Bomba Merkel si infetterà il 70% dei tedeschi. Questa è la previsione nefasta della cancelliera tedesca. Vediamo come apre invece la verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. In Italia il virus uccide di più perché mancano i posti. Letto questo il titolo di apertura. Superati 10.000 contagi. Morti a quota 631. 1.400 i guariti. In confronto con la Corea. Il confronto con la Corea scrive la verità. E' impietoso stesso numero di colpiti. Un decimo dei decessi. Il quadruplo di presidi in ospedale per abitante in Germania è il doppio. E grazie ai tagli siamo indietro pure sulle terapie intensive. Poi sulla verità troviamo notizie che arrivano dal fronte carceri. Carceri fuori controllo. Giudici pronti alla resa. Le rivolte dei detenuti dilagano. 12 morti. Gli ultimi 3 arrieti. Con il pretesto del Covid-19. Chiedono indulto enorme più blande. Del Tribunale di Milano si dice favorevole a provvedimenti per liberare le celle. Tra gli evasi di Foggia c'è anche un assassino. E lasciamo la verità. E in chiusura di rassegna stampa come di consueto. Diamo uno sguardo alle notizie sportive. con la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola chiaramente sull'impresa dell'Atalanta. Grazie Dea. Questo il titolo. Champions, Ilicic, Poker al Valencia, Atalanta. Nei quarti. Storica gioia per Bergamo. Nell'ora più buia. In taglio alto invece si parla della chiusura, dello stop del campionato. Malagò, il presidente del CONI, dice giusto fermare tutto lo sport. Ripartiremo così. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti. Buona giornata.